E l'Emilia rinasce dopo il terremoto che l'ha colpita due anni fa, guardate che cosa si sono inventati gli studenti, i docenti, il personale di questa scuola, un video che su web è già un trionfo. Studenti, professori, personale amministrativo, tutti in campo o meglio in aula per rilanciare il proprio istituto distrutto dal terremoto. Siamo a Finale Emilia, luogo dell'epicentro del sisma che il 20 maggio del 2012 provocò 7 morti e milioni di danni. Questa è la scuola superiore Calvi, a due anni dalla scossa i ragazzi hanno deciso di realizzare questo videoclip. Hanno già trionfato sul web ma vogliono di più, l'obiettivo è arrivare a Expo 2015 e magari diventare anche un film.